A certe versioni di Windows, nell'eseguire applicazioni Mission Critical, riconosco la stessa affidabilità di un novantenne ubriaco con un sigaro in bocca che trasporta un barile di nitroglicerina. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia. Molti di voi mi chiamano MAGO DEL COMPUTER. Ho l'impressione che questo, più che un complimento, sia una maledizione. Ogni giorno qualcuno mi chiama o passa in lab. Ecco, il computer non funziona da un mese! Ma quando mi chiamate mago, pensate significhi che ho la sfera magica? Come faccio a sapere che non funziona? Se me l'avesse detto ventinove giorni fa, probabilmente ora lo saprei anch'io. E magari sarei intervenuto prima, anche. Oppure, se qualcuno avesse la bontà di indicarmi un bravo tecnico della sfera magica, così ogni mattina saprò subito quali computer si guasteranno. Ma forse un po' mago lo sono sul serio. Ehi, riesco a lanciare incantesimi! Come quella volta che mi ricordo a casa del fratello di un mio collega, ci aveva telefonato per dirci che il computer non si accendeva. Muto, proprio come se fosse staccato dalla spina. Arriviamo lì, e lui mi accoglie un po' scherzosamente. Mio fratello mi ha detto che sei un mago, ora gli fai un incantesimo? Neanche mi avvicino al computer. MA CERTO! ABRACADABRA! Ecco, prova ad accenderlo! Clic! Clic! Si accende. Mi giro e sorrido. Il mio collega è in ginocchio che ride come un invasato. Il fratello, invece, balbetta. Beh, lo spengo e lo riaccendo. Magari non parte più. Clic! Si accende di nuovo, e riparte tranquillo. Il mio collega è a terra che tossisce rosso come un peperone perché NON ce la fa più! Il fratello è livido. Non è possibile! Ma questo veramente mago è! L'incantesimo gli ha fatto! Nah, i miei voti a Hogwarts lasciavano un po' a desiderare, e altrimenti adesso sarei a leggere i tarocchi in tv per farmi sputtanare da strisciana notizia, piuttosto che passare alle giornate riformattando i computer sputtanati dai clienti. Ciao a tutti, e alla prossima! Grazie a tutti, e alla prossima!